E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph e qui si giochiamo a una coppia tante sfide E ovviamente oggi ci sfideremo su Roblox Perché in effetti una vera e propria sfida non l'avevamo ancora fatta E siamo giustamente su Design It Esattamente, ci è piaciuta tantissimo questa mappa E è piaciuta tantissimo anche a voi E ci è sembrata la mappa perfetta dove sfidarci Perché già la scorsa volta c'è stata una sfida interessante tra me Esatto Che mi ha detto, boh, sfidiamoci in questa mappa Chi vincerà, vincerà la persona che ovviamente andrà meglio nel round Quindi se uno arriva a secondo e l'altro a terzo Quel round lo vince a quello che arriva a secondo Giustamente Eccetera eccetera E no, tu infatti, vini vini qua che siamo tutti tutti nella panchina Ma cosa devo vedere io? Che abbiamo avuto tutti la stessa idea e siamo tutti dei truzzi Questa è la panchina dei truzzi Siamo fantastici Guarda, mi piace il mio, mi piace il tuo Ma a me questa con la cresta verde è la mia preferita Eh lo so, anche io gli avevo visto la cresta Ero indecisa se farlo È fantastico, è fantastico Però dai, tutti avete fatto il ragazzo Io ho fatto la ragazza Un po' per differenziarsi insomma Ma ci sta Ma stia zitta Io voto il Cristino qua Credo, almeno che non ci sia qualcuno che non si Ma poverino è caduto Ma è svegliuto, ma vieni qua Datteli una mano Allora, salutiamo per fare i simpatici A caparrarci Ciao ragazzi No, io questo, questo col Cristino lo devo, lo devo votare Cioè è davvero fantastico È troppo, troppo carino Ha già vinto, guarda Già che si è preso due voti Di riscaldamento giusto per vedere come va Vediamo Almeno uno dei due in classifica Quello con la cresta per forza Ok Eh sì Cos'è questa storia? Come funziona? Spiegami A me non sta bene così, eh Te lo dico subito Cioè ma neanche terzi No Ma neanche il primo di consolazione Assolutamente no Proprio Niente di niente Ma sei avanti attimalissimo Che tristezza Vediamo il prossimo tema Anche perché in basso possiamo Spendendo qualche Robux Scegliere le categorie noi Quindi nel caso per rendere più entusiasmante Qualche round Potremmo scegliere noi Animal Animal è bello però Bellissimo Quindi qualcosa di animale Vediamo, vediamo, vediamo Allora Secondo me mettere una maschera di un animale È troppo semplice Esatto Esatto Quindi bisogna andare su qualcosa di davvero complicato Allora Oh mamma mia Ma se cerchi qualcosa di animale È strapieno È davvero pieno Ma su Animal? No, io ho cercato Cat Ah, ok Ok Giusto per vedere cosa c'è Ed è strapieno Strapieno Vediamo se c'è lui Devo pensare a un animale che nessun altro fa Perché altrimenti Ho trovato una cosa geniale Oh mio Dio Bellissimo Allora Ok, ok, ok Fammi vedere Ce la posso fare Allora facciamo così Che non è proprio bellissimo Ma non è male Mettiamo questa faccia che è splendida E ho 180 per fare il resto E qua sinceramente Io sono molto concentrata È un atto Davvero molto molto concentrata Perché mi è venuta un'idea che secondo me è geniale Però non so se la capiranno È una di quelle mie idee che non capisce mai nessuno È già andata male la scorsa volta Sotto che ho utilizzato Vabbè, tu non ti preoccupare Non ti preoccupare Io non mi preoccupo Trovate la cosa perfetta Mio Dio Allora, questo è il colore giusto Ho cambiato tutto Allora, vieni fuori che ti voglio vedere No, aspetta Non ho i soldi Così? Ok Sì, ce li ho, ce li ho, ce li ho Che cosa hai fatto? Non puoi guardarmi Dove sei? Vieni alla piscina Vieni alla piscina Mamma, sono dietro di te Basta che ti giri Basta che ti giri Ti devo fare la sorpresa Sei pronta? No Tadà Che cos'è? Una casetta per gli uccellini E per questo mi sei in griberta e Titi Sì È un uccellino È un uccellino a fianco Esatto E tu che cosa sei? Un pollo gatto? No, un gatto vestito da pollo Se notti dietro anche la coda da gatto Perché giustamente io nella realtà sono un gatto Guarda il cavallo, mio Dio Il cavallo è bellissimo Il cavallo è bellissimo Allora Saluto Giusto per essere simpatici Ciao ragazzi Allora non sono molto a te un animale però No, molti non lo sono Quindi il mio voto va al cavallo in automatico No, te, ascolta Votiamoci noi Sicura? Uno a me e uno a te Perché non ci votano mai Ok, ok Io direi di fare così No, perché se non ci votano mai Rimaniamo tutto il giorno qua Scusami Se nessuno arriva neanche terzo Io vedi che dietro ho l'acqua da nera Perché giustamente è un gatto vestito da pollo Capito? E che senso ha? Più animale di così Ho mischiato due animali Ha senso A che pro? Un gatto che si vuole vestire da pollo Ok Ma vabbè Come tu cosa? Non stessi un gatto Magari di dunque No, no, no Desidera essere un pollo Non voglio giudicare Il pubblico Farà capire Chi ha fatto meglio già di noi Yes Ed è il secondo Ferenichi Si porta a casa La mia tattica è stata Fare una cosa carina e cocolosa No, se quella è stata La tua tattica Fare una cosa che confonde Perché non era animale Non era animale Che maleducata che sei Il mio era geniale Il mio era geniale Non è giusto Guardatemi Come fai a dire Che non c'entrava nulla Scusami Sono un porta animale È la cosa più brutta Che abbia mai visto Non si capiva neanche Che fosse animale Non dire fesserie Su, 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 su Allora Concentrati Questo è già bellissimo Quindi Il nostro personaggio Questo lo dovrà avere Per forza Questi capelli Oh mamma mia Costano un po' troppo Però Ok Sai che è abbastanza facile È pieno di cose Con Rainbow Ah sì Se c'è il che va per Rainbow No io ho già la mia idea Perfetta Quindi zitto Oh va bene Oh mamma mia Cosa c'è? Oh mamma mia Ti ho già visto Il mio è un altro Di quelli che nessuno Capirà mai Allora Sono un unicorno Che sprizza arcobaleni Perché lo vedi Che ho il cappellino D'unicorno La pancina D'unicorno Non lo capirà mai nessuno Vero? Non credo Sono tristissima Perché in questo server Nessuno capisce Ammira la mia creatività Mi dispiace Guarda bene i miei occhiali E tu qual è questo? Giusto Perché non vorrei sbagliare Guarda bene i miei occhiali Sono la cosa più bella del mondo Sono fantastici Gli ho visti Gli ho visti Appena li ho trovati Ho detto no No Sono bellissimi Non potete fare una cosa del genere Sono davvero Gli altri invece risultano un po' simili Hai notato? Hanno scelto tutti lo stesso completo Quindi alla fine Diciamo che preferisco il tuo Il tuo è il mio Perché alla fine sono i più originali Grazie Se ci pensi Gli altri hanno fatto tutti lo stesso vestito Guarda se non mi fate vincere adesso Dai ragazzi Io prendo e spacco tutto Dai ragazzi Io prendo e spacco tutto Per la forza degli occhiali Con l'arcobaleno No io sono l'unico Sì E di nuovo seconda Io non ci posso credere No c'è qualcuno che vota sempre per te Mi dispiace Ma stiamo iniziando a barare qui Allora Dove sei? Dove sei? Eh siamo qui Siamo qui Cosa hai fatto tu? Non ho idea di cosa hai fatto Ho fatto Perché l'ho fatto al limite Non ho visto il tuo Quello che Che come lavoro Mette le luci natalizie Credo che mi hai già riconosciuto Ciao Purtroppo ha avuto qualche problema Mentre metteva le luci Ho notato Ho notato Ho notato Sì E se le hai messe in testa È un lavoro molto importante Tu sei una pizzaiola? Sì esatto Me la fai una pizza Perché ho fame Quindi capito L'unica cosa che riesco a pensare È a mangiare Quindi ho fatto il pizzaiolo Non appena riesco a tolirmi Queste luci di dosso Mi fai una pizza Perché ho un po' di famina Ho lavorato duro Troppo c'ho velenata Così vinco in automatico Perché sei morto Capito? Quindi almeno In guerra tutto è legge Guarda che non vengo a mettere Le luci nel tuo albero di Natale Stai attenta Poi ti te le mette Non ho bisogno di te No le mie sono speciali Mi dispiace Non sei poi così bravo Capito? Non sei poi così bravo Sì che sono bravo A fare questo lavoro Sono fenomenale Vedi non capisco Quando li fai originali Perdi Quindi mi sa che vado sul banale Per vincere Perché bisogna essere smart Capito? Perché la gente non capisce totalmente Loro hanno pensato Ma che cos'è? E non hanno capito Che invece era quello che lavorava Quindi dici che prima ho perso Perché nessuno ha capito La mia creatività Assolutamente sì Ma anche perché Quello che c'è nella tua testa È solo nella tua testa Quella è E comunque No comunque voglio dire una cosa Fammi dire a me Voglio dire prima io Dico io Allora alziamo la mano L'ho alzata prima di te Paradise Aspetta zitto un attimo Sì Voglio dirla Sì Secondo me ti meritavi tu la vittoria Sto round Ok Perché era troppo geniale Però evidentemente abbiamo un tipo di comicità Che capiamo solo io e te Mi dispiace Io ti voglio dire una cosa Dimmi Ero pure a tema con la scritta del gioco Guarda Guardami 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 Infatti ha vinto il mio Che alla fine era normale Comunque paera adesso abbiamo detto Sì Proviamo Proviamo Eh Paradiso non l'abbiamo mai fatto Eh no infatti Quindi non ho idea di cosa ci possa essere Cosa possiamo trovare Non c'è nulla Non c'è nulla No Non c'è nulla e niente Angel Angel Vediamo Ok Ok dai Facciamo gli abbinati Tu angelo io diavolo Dai che così ridiamo Sono fantastici Ma così perdi per forza A tema paradiso E mi fai il diavolo Sì Cos'è l'invasione Sì esatto Le guerre tra angeli e diavoli Non ce le hai presenti Scusami Dove pensi che si facciano Il mio problema È che devo fare con dieci Tutto il vestiario Perché ho deciso Di mettere le ali Che costano mille Solo quelle Ho visto anch'io Ma dovrei farlo con 140 Tutto il vestiario È possibile Hai più soldi di me A quanto pare Eh sì 1140 Non va bene Allora Vediamo se c'è qualcosa d'angelo Anche qui Ma Angel boy Ma scusate Ma non è d'angelo questa cosa Ah no in effetti è bellino Allora Allora Ascoltami Mettiti un paio di mutande Fai cupido Capito Con le mutande Le ali Ma non mi posso permettere Neanche questa magliettina Ma ti metti un paio di pant Capito Ho capito Ok Ok Allora voglio Qualcosa di pink Io sono pronto Credo di aver Io te l'ho detto Che era Guarda se vince I veritumi È geniale È bellissimo Credo di aver perso Il punto di vista Di questa sfida Perché Sto iniziando a fare Delle cose Che non funzionano molto Senza ombra di dubbio No secondo me sì Invece Allora Io apprezzo sempre L'originalità Ecco qua Te lo dico Ecco qua Allora Come faccio a vedere L'altro momento Mi fai finire Che ancora non ho finito Scusami Scusami Stai cercando di distrarre Per farmi perdere tempo Io lo so questo Ma rimango concentrata Ma cosa Cercando di farti perdere tempo Ma guarda Ok Io ho finito Mi devi vedere Vieni 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 Arrivo 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 Io mi son fatta tipo Divinità greca tipo Esatto Meno male che l'hai capito E ci arrivo subito Certo Ma non ci credo che l'hai capito Ho detto Non lo capirò mai Mi prenderai in giro Sono un angelo Ascoltami Greco Una divinità greca Capito Studiavo storia Quando manco erinata E secondo te Non riconosco i greci Ma per favore Scusa poi Ferinichi È un nome greco Devo fare per forza A quello non ci arriva nessuno Mi dispiace Però il nome greco Molto molto bellino Credo che avrò un problema E Ferinichi La rivedrò qua sopra Al posto mio E sarà un grossissimo problema Comunque vedi che le mie ali Poi sono molto più piccole Le altre si sono più belle Ma costando mille Cioè non riuscivo poi a farmi Capito Il vestito Guarda che belle ali Non riuscivo a mettere neanche i capelli Guarda che bello No sei fantastico però Non lo so Io avrei preferito fare una roba seria Devo essere sincero Però Non avevo il budget Siccome la mia creatività Non è mai stata apprezzata Perché ricordiamo tutti Il bellissimo gatto Vestito da pollo Che è stata una delle mie Creazioni più geniali Io adesso li faccio seri Li faccio seri Perché mi sono offesa Capito Mi sono molto molto offesa Ciao Allora Voto a te Ok Dimmi Hai le pantoffole di mini poni Ma avevi detto Perché non c'è altro Che costava 10 Mi serviva qualcosa di rosa E sono Arrivato Ad avere le pantoffole Ad avere le pantoffole di mini poni Ok Ok E un angelo Non può avere le pantoffole di mini poni Scusami Ah poi i mini poni volano Magari al mini poni Brava Come compagno Capito Volano insieme nei cieli Ci stiamo capendo Ci stiamo capendo Eeeh Ringraziami Ringraziami Che è stata un'idea geniale È stata un'idea geniale Ti ho portato alla vittoria Vedi che le mie idee Non sono poi così tanto sottovalutate Secondo me Io te lo dico È inquietante il fatto che ho vinto Sì No guarda Sono d'accordo Per me è inquietante Sono davvero d'accordo Sono davvero d'accordo Anche perché poi il terzo Perché è arrivato terzo Scusami Ah Paradiso nel senso delle Hawaii Forse Vedi Che ha il costumino Le ciabattine Sì in effetti Alla fine lo potevi Un po' interpretare Come volevi Cioè Giusto Giusto Cos'è vacation Se mi prendi in giro Mi prendi in giro Che ci siamo fatti praticamente uguali Abbiamo lo stesso pupazzetto Sì La stessa maglietta E quella è la cosa incredibile Cioè Allora io la maglietta Ok La ho trovata in un'altra sezione Che non aveva niente a che fare Con il sonno Quindi adesso mi spieghi Dove tu Dove te la sei tirata fuori Perché non è possibile Sta cosa Con lì io l'ho trovata In prima pagina Io mi sono anche Concentrata Per trovare altro E ci facciamo uguali Perché c'è Babbo Natale Oh che bellino questo Col pigiama così Non lo so Bellino il pigiama Questo qua Questo da panda È molto molto bellino Sì è molto carino Molto carino Eh Vai Ti voto Il discorso comunque Che c'era poca roba Io penso che avevi aver fatto Anche qualcosa di originale Col Pusheen Il gattino Vabbè Vabbè C'era poca roba secondo me Sì No è vero Quindi alla fine trovavi Sempre quelle cose Io sinceramente A livello di pigiami Mi aspettavo un po' più di varietà Invece era davvero un po' Diciamo che eravamo lì E quello con la barba lunga Secondo te che ha pensato? Tanto ho capito Che le mie cose Non sono mai divertenti Quindi Ne esco abbastanza sconfitta Perché sì Nessuno capisce la mia comicità Forse un po' troppo Elaborato Forse Solo adatta a me Forse di quelle cose Sai quando dici una battuta E la capisci E ridi per due ore da solo E nessuno ride Per i nicchi di quelle Ecco Sì no davvero Anche nella realtà Infatti Lo rispecchio benissimo Su design Basta Comunque Visto che ho vinto Ho deciso il mio premio Ed è semplicemente Scegliere una mappa Mi ha fatto scegliere un premio E ho sempre vinto Ascolta Come funziona qui? Come funziona? Io teoricamente dovevo fare La bottle flip challenge Quando avevi vinto tu Però Siamo rimasti senza videocamera Come potevo farla? Eh sì Quella è vera Quindi La prossima volta che vincerai Potrai scegliere Tra delle cose divertenti Ok? Ok Quindi ti lascerò Delle belle scelte Per questa volta Io sceglierò La prossima mappa di Roblox Ok Quindi Il video di Roblox Che uscirà dopo questa sfida Sarà su una mappa Scelta da me Ok ci sto Bella idea Bella idea mi piace Sono curiosa di vedere Ci saranno pirati Anche se secondo me Ho già capito Guarda ho già capito No no Assolutamente Non lo spoilerò Ma ho già capito Comunque ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuta Questa sfida Non poteva essere Troppo entusiasmante Perché comunque Si basa sui voti Ed essendo in pochi Diciamo che i voti Erano prevalentemente Di consolini Quindi diciamo che Non era proprio Super agguerrita Come sfida Però è stato secondo me Lo stesso divertente Speriamo che vi sia piaciuto E suggeriteci Magari nei commenti Su che gioco Fare la prossima sfida Perché abbiamo delle idee Però vogliamo vedere Anche voi In che giochi Vorreste vederlo Su Roblox Ne faremo uno Ogni tanto Quindi non ne faremo Spesso ragazzi Perché vogliamo Diciamo utilizzare Questa serie Per portare tanti giochi Non per fare sempre Roblox Ok abbiamo capito Quindi proponete giochi Ci filmiamo così Bene che sia già Scrivetevi Lasciateci un like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete continuare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao